Non puoi mai e poi mai accettare le briciole che ti dà il narcisista, anche perché c'è da tenere presente un altro fatto fondamentale, che noi siamo fatti di logica e di emozioni, no? Per la parte logica 2 più 2 fa sempre 4, solo 4 e tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo prende e lo butta nel cestino. Mentre per la parte emotiva 2 più 2 potrebbe fare anche 4, ma potrebbe fare 5, 6, 10, potrebbe essere un rituale per togliere il malocchio, la parte emotiva non ha limiti, diciamo così, la parte emotiva non ha nessun limite. Allora cosa succede? Che siccome la parte emotiva si nutre di tensioni emozionali e vuole vivere delle emozioni, vuole vivere delle tensioni emozionali, se tu non gli dai emozioni buone perché ti agganci a una persona che di fatto ti fa vivere una vita di merda, allora che succede? Beh, succede un fatto veramente semplice, un fatto veramente, come dire, molto semplice. Succede che la tua parte emotiva, anziché nutrirsi, diciamo, della torta che ti darebbe una persona positiva, che ti darebbe la persona giusta, si nutre delle briciole e tra l'altro briciole di polpette avvelenate, anche neanche di torta, briciole di merda, possiamo dire, che ti dà il narcisista. E allora, e si gode quelle emozioni perché per la parte emotiva è molto bene. La parte logica, poverina, che è la parte con la quale ti identifichi perché, diciamo, grazie bella, ricordiamoci bene che io non posso credere assolutamente che una persona che sta con un narcisista a livello logico dica che bello. No, si lamenterà, starà male, vivrà sensi di angoscia, vivrà sensi di colpa, starà male, proprio anche quasi fisicamente, nel star con il narcisista. E allora, se si accontenta delle briciole, siccome per la parte logica 2 più 2 fa sempre 4, solo 4, e tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 lo butta via, la parte logica si rende conto del fatto che tu, grazie Rosa, si rende conto del fatto che tu, diciamo, ti stai accontentando di palate di merda fondamentalmente. E allora cosa fa? E beh, e allora cosa fa? Deve far tornare l'equazione. Se io mi accontento di qualcuno che mi dà, come dire, le briciole, che mi tratta male, che offende la mia dignità, che oltraggia la mia dignità, vuol dire che io valgo poco. Ma te lo dici da solo, vuol dire? Metti in dubbio, entri in conflitto con te stesso o te stessa, perché devi dire io valgo poco. E noi possiamo entrare in conflitto con tutti, anche con i nostri genitori, con i nostri parenti, ma non possiamo mai entrare in conflitto con noi stessi, perché se noi entriamo in conflitto con noi stessi, se ci autogiudichiamo negativamente, se ci autogiudichiamo dei falliti, se ci autogiudichiamo delle persone che valgono poco, se tutto questo è vero, se noi da soli ci giudichiamo in questo modo, beh, vuol dire che, come dire, la nostra autostima deve valere zero. E quindi entri in un loop perverso, in un loop dannoso, in cui praticamente la tua autostima continuerà a scendere, ti sentirai sempre più merda giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno la tua vita peggiorerà, perché tu resterai legato a questa situazione. E allora che cosa bisogna fare? Qual è l'arcano? Come poter venire fuori da una situazione di questo genere? Come poter emergere? Come avere un'emergenza, tra virgolette, definitiva? emergere da una situazione di questo genere? Venire fuori da una situazione di questo genere? Come è possibile? Come possiamo farlo? Beh, ovviamente devi trovare le risorse, ma le risorse noi dentro di noi le abbiamo. Dentro di noi abbiamo già tutte le risorse per ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Non è vero che non abbiamo risorse, non è vero che non siamo... Noi le abbiamo, soltanto che non le usiamo. Non le usiamo per le nostre paure. E allora, quali sono le paure che ti tengono legate al narcisista? Che ti tengono legate, narcisista o non narcisista, comunque una persona che ti dà bricio, una persona che ti tratta male, una persona che ti tratta come una merda, ti dà, come dire, ti manipola, ti rovina la vita? Come possiamo fare? Beh, dobbiamo tenere presente che c'è una risorsa dentro di noi che si chiama forza interiore. C'è una risorsa dentro di noi che si chiama coraggio. E allora dobbiamo tenere presente che il coraggio non è l'assenza della paura, ma è fare le cose nonostante la paura. Nonostante la paura di restare da sola, da solo, nonostante la paura di essere abbandonato, nonostante la paura di essere in qualche modo manipolato, eccetera, di essere condizionato, nonostante la paura di essere giudicato negativamente, nonostante la paura di essere svergognata o svergognato, nonostante tutte queste paure, tu devi fare un atto di coraggio, cioè agire nonostante la paura, agire nonostante la paura. E questa è l'unica cosa che tu devi fare, è l'unica cosa che tu puoi fare se vuoi veramente liberarti da una situazione nefasta. E quindi devi prendere l'atto di coraggio, devi mettere in atto un atto di coraggio, di puro coraggio, e trovare la forza per... MANDARE LA FANCULO! Per toglierlo dai coglioni. Ovviamente è fatto in modo intelligente, non in modo stupido, cioè riprenditi altri contatti. Devi toglierlo dalla testa, inizia a... inizia a ragionare diversamente. Inizia a ragionare diversamente. L'atto di coraggio è un atto che tu devi fare. E una volta che l'hai fatto, cosa succederà? Il meccanismo interno riprenderà in modo diverso. Il meccanismo interno riprenderà in modo diverso perché? Perché capiteranno cose diverse. Se tu fai un atto di coraggio, l'equazione, la tua parte logica dice cavolo, io però ho fatto un atto di coraggio, io ho avuto la forza di togliermi uno dalle scatole, ho avuto la forza di sputarli, diciamo, di dargli lo sputo terminale. E allora, automaticamente, l'equazione torna. Vuol dire che allora ho acquisito nuovamente autostima, allora ho acquisito nuovamente forza, allora io valgo, perché ho fatto quest'atto di coraggio. Questo è un meccanismo, no, che si chiama dissonanza cognitiva. Se io faccio un'azione, la mia mente si allinea all'azione che faccio. Se io mi comporto da superman, avrò l'autostima di superman, e non l'autostima di una merda. E quindi tu devi comportarti in questo modo. Automaticamente si ripristinerà tutto il sistema. E vedrai che inizierai a stare bene, inizierai a stare da Dio, inizierai a uscire con altre persone, a conoscere altre persone. E questo ti sarà servito, tra virgolette avrai imparato la lezione. Nel senso che quando incontrerai, perché nella vita si possono incontrare sempre persone di diverso genere, quando incontrerai persone di quella tipologia, le manderai a fancula l'istante, te le toglierai dei coglioni subito. Perché non è vero che c'è chi dice, ah, io incontro solo le persone sbagliate. Questo non è assolutamente vero. Noi incontriamo persone di tutti i tipi, non solo persone sbagliate. E il problema è che se ci agganciamo alle persone sbagliate, è perché valutiamo poco noi stessi. E quindi, allora lì, se tu sei assetato, ti agganci anche all'off bombing che ti fa il narcisista, o la narcisista. Ti agganci anche alle briciole che ti vengono buttate. confondi la lana con la seta, confondi la crusca col grano. Invece non devi assolutamente confondere la lana con la seta, ma devi separare la lana dalla seta. Devi separare, devi riconoscere la crusca dal grano. E il grano te lo prendi, la crusca fuori dai coglioni. E quindi vedrai che una volta che avrai fatto degli atti di coraggio, dentro di te ci sarà una forza talmente forte che sarai in grado di scacciare, di allontanare tutte le persone negative. E la vita scorrerà in modo veramente più semplice. perché d'altra parte è molto semplice vivere in modo tale che abbandoniamo tutte le persone che ci danno negatività, abbandoniamo tutte le persone che ci danno malessere, tristezza, e promuoviamo invece tutte le persone che ci fanno stare bene, che ci danno gioia, che ci danno felicità. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare se vogliamo stare bene, liberarci una volta per tutte da questo fardello dei narcisisti. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.